E' un po' che Hai Giorgio li pocheremo a morte Però quanto sei carino Ammi vero quanto è carino Cosa cazzo è andato? Cosa è andato? Ah io ho v... dove è andato? Che poi in realtà elfi in giapponese vuol dire 10 No in tedesco vuol dire 10 Sti gazzi L'ho visto su Conan Giustamente Eh perchè c'era una tizia che diceva Vieni qua che... Vieni qua che prendo gold Spacchia Eh ma non so come... non pensavo che questa cosa ti cambiasse colore Vedi 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 E' già metà vita Sì Mi hai presente quando io giochiavamo a Death Zone a P? Sì Eh adesso fa il doppio dei danni perchè abbiamo il meteorizio Sì 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 E' morto C'è messo bene dai Io sono main braum, queste tattiche non funzionano quattro game Certo sta succedendo sto game? Abbiamo fatto double kill! Eh? Quando fai double kill crei più cold Cold? Eh rispetto a se fai una kill e poi la seconda, se fai double kill crei più cold Madonna santa, ho già metà video No Fai Usciare Gli devo dare un nome a sto cosetto Pixi No Pixi è un bel nome Guarda, guarda dentro quanto si è alluttalato Però ho portato il mio prietile su Jargon Gli devo dare un po' Sì 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 Ho proprio pappicato ninja Cosa sta succedendo? Eeeeeee Sì Niente bottini Cosa sta succedendo? Fai chi stesso? Fai 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 io lo staccaro bariccio giorgio ottio che spaventa giorgio per zed rosa cosa dai raga gli ultimi 2000 ip di youtube per zed rosa perchè si possono comprare i chrome adesso? è vero facciamo la squadra di powerhand ok raga ho fatto tutti i miei ip, mi sono preso gina e' carino e' un croma di attaccato croma di shinzao croma di pochi poco a mano raga non abbiamo un problema di più di più il totale avevo spostato avevo 12.000 ip più 7500 per tutti e' un 22.000 e' prendi ne avevo 19.000 giorgio posso dire che i minimi non sono un problema e' stiamo facendo e' un b inizio come la telegine ooooh guardalo un eee preso cazzo ho fatto quello preso l'assist e' il slow up e' ancora slow up e' il dinosauro oh cos'era col boomerang sei slonato ancora più sei morto slow up ma c'ho stiamo pushando vedete i proiettili cos'è per il re comunque sul mio account in main quello sull'Europa si per i periodi con il programma che ti sono sponso stiamo prendendo la tour ma e' per questo che e' utile la modalità automatica Tu lo avvii e intanto puoi fare qualcos'altro Aspetta che butto qualcuno dall'estamici perchè sono pieno Eh aspetta ehm Oh posso fare una friend summon? Vai La friend summon? Un mushroom Mmm Eh tipo Questo evento quando spendi 50 energie ti da altre 50 energie Spendi cinquantamila gemme, non gemme scusa ehm Eh? Sì Cinquantamila gemme, gemme e pietre blu e ti da cinquantamila pietre blu 3.28 am Guardalo, guarda con con le dita Ultalo, grazie Ma perchè? Le mie stack Quella passiva Mi faccio una dead in place E vedi questa è la deathzone Qua 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 Edra è il morto Giorgio, possiamo? Eh ok Ma Deve andare segnare, io vengo shuttato We can do this Quanto pesante Ci dettelo Morto Ezra le siamo rivali nella mia Malaysia Siete questo Siedetelo Aia sono morto Ci devete questo 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 Attaccate questo Yeeee Abbiamo vinto Non so sa come Vediii questa combo è grazie a tutti grazie a tutti